Da altre autorevoli fonti Cerchio e seno attraverso NT Domanda Il programma della nostra incarnazione è fatto di volta in volta o una volta per tutte? Alexander Anche questo vi è stato detto da altre autorevoli fonti Ci sono le cosiddette varianti E chi di voi ha attinto a certi insegnamenti capisce che cosa voglio dire In linea generale si può tracciare un programma di vita Le tappe fondamentali sono stabilite ma le varianti sono notevoli Anche perché le proprie decisioni sono spesso condizionate dalle decisioni altrui Ci si incarna non per vivere isolati, vero? Quando si è disincarnati si prendono, per così dire, degli accordi E quindi la decisione è valida e determinata Una volta nella materia, però, possono avvenire delle modificazioni nel programma A causa appunto delle famose varianti A causa appunto delle modificazioni nel programma